a voi siamo ritornati ragazzi ho risistemato un po la squadra che ne dite questa è la mia squadra io direi andare a giocare ragazzi ovviamente non ho cento per cento stile di gioco perché vedete c'è becca 95 uno frenato 94 95 come raga dire di andare a giocare e andare a giocare di provare adesso nuovamente l'online eventi questa minchia te partita di ieri che madonna mia che schifo vediamo se fa schifo pure oggi una partita incommentabile ma veramente sotto di tutti i punti di vista proprio che 2000 gp ma vaffanculo va vaffanculo chi troviamo 2061 visto avevi già preparato tutti calcio d'angle punizioni impostazioni tattiche mortacci tua mortacci loro mortacci di pippo mettiamo sto pallone va anche se giochiamo in casa e fuori caso poi cambiare il pallone questa cosa però non c'è il pallone storico giochiamo con queste malette storiche diciamo classiche vediamo se la formazione adeguata raga ho fatto un cambio ho tolto dei mar l'ho messo in panchina perché raga io non lo so usare non c'ho le mani di lì ragazzo parliamoci chiara alla fine delle linee ci prendiamo per il culo ci sfottiamo poi quando c'è da di la verità è quello come stanno tutti a palla io direi di andare a giocare ho messo difensivo hernandez andiamo avanti ragazzi andiamo a vedere ho messo due copie di buoni più o meno avanti centrocampo becca è il buono bruno fernandez anche se a me blu fernalaga nome piere aspetto pavel network li devo fatti da certe bombe carlo enzo rumenighe come trequartista no so che dirvi pazzolini di fiori si è gustato il pizzo oggi le volte con gc roma vediamo vediamo visto che l'ho l'offline ha fatto caccare i vermi che può per avere solo gp perché punti est non mandato un cazzo io non riesco a difendere c'è i bravini c'è no 1 a 0 già ragazzi su ibraimovici a chi l'ha dato ma perchè non difendere ragazzi madonna mia niente ragazzo io io sono capa tosta non capa tonda da chi schermo ma scappato c'è continuo ancora vuole fare quel cazzo ma no raga guardate come mi scrive ovviamente questo si vede che un player diciamo io non lo voglio affendo voglio dire scarso ma quasi raga vabbè ragendo gioca per fosco lucca titolare no no a me mi serve uno massiccio so forte avanti che faccia la differenza con spallate tutto vabbè di testo non ne parliamo però poi dei brevi lini da madonna doveva madonna mi ragazzo a me io non so cosa cazzo boh ripeto con ami dimmi che hai topato dimmi che topato doveva lukaku madonna mi raga aiuto abbastanza un pareggio per portare a casa la challenge raga cioè si dicevano le divisioni sono sminchiate ma qua è tutto sminchiato guardate becca ma io ce l'ho stato ma guardate ce l'ho questo mi sta facendo a merda certo una squadra di 2.000 e continua a sbagliare lukaku davanti alla porta va bene tacciamo vabbè ragazzi io vedo gli 12 alcuni con la ps4 che vanno come il burro io non ci credo a sta cosa ma guardate madonna mia oggi ecco a scherzo porti effesso è ripeto tutto il rispetto dell'avversario è una squadra di merda sicuramente non sa giocare ma mi sta facendo a merda io sono onesto ragazzi io sono onesto guardati io io poi è perché si è fermato e no zio si ferma guarda questa cpu è e che fa sta giocando ma è serio questo vabbè vabbè non vabbè bambin bambin però zio qui tola metti pausa tira la kit e mort madonna mia nientra che hanno la quitta io non sto capendo sto gioco è madonna ma guardate decisi che basta che mettete pausa un cosa buono che ti allena pure i panghinali così gigino sale il vostro di gino sale vabbè i tuoi mila gp raga per avere solo 1000 punti esp ma qua devo fare una vittoria lo proviamo a 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 Buongiorno. 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 Vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Cambiamo pallone. Mettiamo questo. Buongiorno. 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 chi dio c'è la man di buona sto ces volevo accorpare i due video ma non se poteva non se poteva lo stadio due anni di due anni più chiaro l'anno scorso a me copilo mi so divertirmo quest'anno mamma mia sono dove cazzo gli vieni ma perchè ma fu i dati di conti che cazzo vediamo come sto vediamo come questo primo passaggio sbagliato e copriamo gioco lei io già ve lo dico un'altra domanda tutto ciò abbiamo capito l'andazzo il E chi è quello? Taccà giù e aspettiamo. C'è Pichetti, eh? Sarò un amante del Barcellona. Eh, lo sapevo. No, vabbè. No. Eh? No, vabbè. Beckham che salta. No, a me stella cosa non mi piace. Ma non era, lui era Beckham. Raga, era Beckham la palla. Vabbè, madonna mia. Già vedo un po'. Eh, addirittura. Butta. Niente. Vabbè. Ah. Ma dove sta il centrocampo? C'è, etto al centrocampo. Oh! Vabbè. Butta. A chi è? Abbiamo finito di giocare, ragazzi. Abbiamo fatto il gol. A Toretto, più che altro. E Nico ha smesso di giocare. Vado a pareggiare. Oh, se. Va bene. Va, va bene, ragazzi. E noi che parliamo. Che cazzo parliamo? Ma di che cazzo vogliamo parlare? Stavo facendo l'esultanza, eh. Vedete, io sto cliccando. Tutte l'esultanza si è fatta. Sto figlio di indrocchia. Vabbè. Vabbò. Mamma, guardate Pujol come si frena, raga. Io non ci voglio credere, raga. Io non ci voglio credere, raga. Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Guardate Pujol, guadio. Guardate Pujol. Maldini se ne va per i cazzi. Pujol non ne parliamo proprio. Vabbè. Vabbò. Madre, che lentezza di gioco, madonna. Che lentezza di gioco, dio santo. Ma chi è quello? Che lentezza. Ma mi ha fatto il fallo, scusa. No. E a chi è? A lui. Ma chi l'ha domo? Io non so chi dà, guadio. Cioè guardate. Cioè. Vabbè. 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 Ma ditemi voi che cazzo di gol è questo? E non lo fa rivedere. Vabbè. Madonna, che schifo. Non mi fai il lancio, ti prego. Madonna mia. Ma è Bruno Fernandez, la gà, eh. Bruno Fernandez, la gà, bu. Lettera, madonna mia. Ma che è sto tiro di, 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 di Lukaku? Ma guarda, non chiude nessuno. Guardate, raga. Non lo chiude nessuno. Madonna mia, che schifo, raga. Che schifo, Dio santo. Che schifo, che schifo, che schifo, lo dirò all'infinito. Che schifo, che schifo, raga. La fase difensiva. Ma guardate, fammelo rivedere. Ma guardate qui. Cioè se ne vanno all'indietro. Questo poi non ne parliamo. Beh, Luker Nandez. Madonna mia, che schifo, madonna mia. Madonna mia, che schifo, raga. Non va, non va, non va, non va, non va, non va, è tutto ritardo, eh. Madonna mia, che è. Ma che cos'è? Ma siamo seri, oh. Ma che è? Ma che cozzo sta succedendo? Oh. Ma che sta a fare, tu, là? Oh, ma è fare il gioco. Madonna mia. Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. Signore, aiutami. Signore, aiutami. Boh. Dante, 40 anni Dante, raga, non, ma guarda, non difendono. Sto perdendo la pazienza, raga. Non è credetemi, sto perdendo totalmente la pazienza. E tu c'entra al solitino. Boh, vabbè. Raga, questo è scarso, raga. Questo è scarso. Io devo stare già 4 a 0. A parte di guardarti che lentezza. Ma che cazzo di problema sto gioco? Questa appena è una squadra di merda, oh. Ma no, c'è, laul come punto centrale. Madonna mia, raga, oddio mia. Boh. Ha una certa. Bisogna ricambiare modulo, tattica, allenatore, tutto. Io veramente non... Non mi capacito, ragazzi. Non mi capacito. Ma dove vai tu? Madonna mia, ma che... Ma che cazzo... Non ho il movimento dei giocatori, raga. Io non ce l'ho. Ma non era lui. Non c'è mai che se n'è andato. Io piquet. Avete visto il piquet? Questa la differenza. Madonna mia. Madonna mia. Ma... No, raga, ma c'è qualcosa che non va, raga. C'è qualcosa che non va, ma guardate, c'è qualcosa che non va, raga. Non è possibile. Niente, dai, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile tutto ciò, mani. Stai con che cosco non c'è. Io ne scaffo a due passaggi, eh. Ti bala, eh. Vabbè, entra. Vabbè. Madonna mia, raga, madonna mia, madonna mia, madonna mia, madonna mia, che schifo, raga. Qua Lukaku mi ha... Ma guardate, raga, guardate, guardate che cosa ha combinato con... Madonna, ha rovinato il bellissimo gioco. Mamma mia, Konami, cosa è combinato? Konami, cosa è combinato? Ah, non è neanche calcio d'anno. Vabbò. Vabbè, madonna. E che? Ma guardate, no, raga, che cosa sta succedendo? Ma che è successo? Che cosa è successo? Ecco la terra, la che è svenuta. Canto è giusto, raga, io non posso giocare con un anetto davanti alla difesa, raga. Non è da me, raga. Ehi, Gigino, Gigino, devo andare avanti. Ma guardate, Pujo... Oh, mamma mia. Madonna mia, madonna mia. Madonna mia, madonna mia. Madonna mia, madonna mia. Ma che è, raga? Ma che cosa sta succedendo? Io voglio capire se state avendo lo stesso problema a tutti quanti. Non ferma, ma si scassa già tre quarti di Gigio. Allora, e quest'altro quattro ore, madonna mia, vosa. E non si può giocare. E no che non si può giocare. E certo che non si può giocare. Tengo la bocca di pazzo a notiziarci, guanio. Ma vado con la notizia. E non si può giocare. Ma non era lui. Ma no. Non è fallo là. No, vabbè, da. Vabbò. La voglio pure perdere questa. Non va là, è un pareggio. Ma che è? Oh! Madonna! Mi sto mantenendo, raga, mi sto mantenendo per non fare danni. Ma dov'è? Ma dov'è? Ma non è a lui! Madonna mia! Come si fa a non prendere e cancellare? Questo schifo definitivamente, raga. E' uno schifo. E' uno schifo, raga. E' ingiocabile, raga. E' tutti giocabili. Ognuno va dove cazzo gli pare piace. Ognuno va dove cazzo gli pare piace. Non si riesce a fare due passaggi, raga. Due. Ma che no! Affamocca, chi è morto e chi sarà morto, vabbè? Dai, sergente. Che è Matic questo. Questo è Matic, non Sergei Milinkovic-Savic. Ma che cazzo sta succedendo? Ma che è successo? Ma che è successo? Non si riesce a giocare più. Beccab è morto, ecco. Beccab è morto, muore sempre a me. Vabbè. E' il tuo item? Boh, io stavo a corso e non lo sto capendo veramente sto gioco. Ma che è? Ma che cazzo hanno combinato? Ho detto, madonna. Madonna, mi che cazzo hanno combinato sto gioco. Madonna, mi che gli hanno combinato. Quanto era bello, mamma mia. Madonna mia, madonna mia, madonna mia. Madonna. Ma che è? A chi è? Ma chi è? Ragazzi, questo è scasso, ragazzi. Niente, è tuo che non sa. Vabbè. E che è? Dai, è finito. Vabbè, po'. Avevamo vinto due insieme a voi. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Volevete questo che lì, divisione, in quale parte divisionista, nessuna, per avere che cosa poi, ora vi faccio vedere, 2000 GP. Ovviamente, spagnolo, PS4, pure lui. Io ho fatto il tutto. questo è quello dovete solo partecipare vi dà i premi e anche quello faremo con calma che schifo ciao e alla prossima conami se è una delusione guarda che mi vedono posto da legge oh l'ho letto segna tutte come lette il triangolo ok